Amici di Android Blog, Alcatel OneTouch Hero che sta girando questo video Tentiamo subito un controluce anche se purtroppo di luce in questa giornata non ce n'è molta Torniamo a luci normali Come al solito camminiamo verso il nostro solito vaso di fiori Per una ripresa macro Tendiamo il fuoco Che in realtà ci impiega un po' ad arrivare Giriamo per vedere l'adattamento Proviamo una serie di movimenti verso destra e verso sinistra in modo rapido Andiamo ad effettuare uno zoom disponibile anche alla risoluzione massima fino a questo ingrandimento Digitale ovviamente Per concludere la ripresa girata in full HD Da Alcatel OneTouch Hero